Sì ragazzi bentornati sul mio canale, oggi vediamo un gioco che si chiama lo squalo Siamo dai 7 anni in su, 3-6 giocatori, 20 minuti circa Quali dei nostri pirati Lego riuscirà a nuotare più forte per non farsi staccare un braccio dallo squalo? Nel primo video come al solito vi spiego le regole, mentre nel secondo vedremo il gameplay Bentornati al tavolo di gioco, sì non ve l'aspettavate, questi sono dei veri e propri Lego Quindi come vedete sono snodabili e gli arti si possono anche staccare Non è che si possono staccare, si devono staccare nel momento in cui ci facciamo pappare dallo squalo Che è questo qua, piccola nota, vedete questa plancia di mare qui? In realtà sono le istruzioni dietro, quindi soluzione molto simpatica Allora per cominciare dobbiamo prendere praticamente il mazzo di carte dei giocatori Per un esempio A4 sono le carte che vanno 1, 2, 3, 4 e 5 Se giocate in più giocatori c'è anche la 6 e la 7 Come funziona il turno? Ogni giocatore praticamente gioca faccia in giù una delle sue carte Dopo che l'hanno fatto tutti si rivelano in contemporanea Si vanno a vedere i numeri che sono stati giocati sostanzialmente Questa diciamo che è la forza con cui i nostri personaggi cercano di nuotare velocemente via dallo squalo Bisogna partire dal numero più basso E spostare il numero più basso in cima Vedete che il rosso è già in cima Poi bisogna prendere il secondo numero più basso che è il 2 e spostarlo in cima Quindi lo prendete, scalate tutti gli altri e lo spostate in cima Terzo numero più basso che è il nero Va in cima lui Quarto numero più basso Il 4 che è il bianco Scalate tutto e va in cima Una volta che avete fatto questo lo squalo stacca un arto al giocatore che è più vicino a lui Quindi gli staccato una gamba o quello che volete voi Dopodiché praticamente gli arti sono i vostri punti vita Una volta che avete esaurito gli arti, i 4 arti siete fuori Dopo che lo squalo ci ha mangiato un arto Venite spostati automaticamente in cima E potete raccogliere tutte le carte che avete giocato Perché se voi per esempio siete il rosso e avete giocato davanti a voi 3 carte Lo squalo vi mangia automaticamente riprendete tutte le carte giocate e le rimettete in mano Se no per poterle riprendere in mano Se ne avete giocate due Dovete giocarle tutte fino ad averne due in mano Ovvero quando ne avete due in mano Deve iniziare il prossimo turno Avete diritto a pescarle tutte Ma se lo squalo vi mangia prima Che voi ne avete giocato anche solo una Volate in cima e ripescate tutto Riprendete in mano E si ricomincia con un altro giro I numeri delle carte giocate devono essere sempre esposti Cioè gli altri giocatori devono vedere quali numeri voi avete giocato Per poter fare diciamo una strategia Cioè sanno che il nero ha giocato il 3, il 2 e il 4 Cosa significa fare una strategia? E qui viene la regola fondamentale del gioco Se in un turno due giocatori giocano lo stesso numero Entrambi non si muovono Due o più giocatori Quindi se ad esempio il nero e il blu giocano tutte e due Il 2 e gli altri giocatori invece hanno giocato altre carte Mettiamo per esempio che la situazione è questa Si parte dal numero più basso che è l'1 Il rosso quindi il rosso si porta in cima che è già in cima Secondo numero più basso è il numero 2 Però l'ha giocato più di un giocatore Quindi il nero e il blu non vanno avanti Poi tocca al 5 che si porta avanti Quindi in sostanza il nero avendo indovinato il numero che ha giocato il blu L'ha bloccato davanti allo squalo E viene pappato Poi viene tirato su dopo che gli ha staccato un arto Raccoglie le sue carte come di consueto E si ricomincia un'altra manche Se vengono tutti smuzzicati Cioè gli vengono tolti tutti gli arti Nel momento in cui viene tolto l'ultimo arto Mettiamo che il nero sia la frutta Che quindi abbia una gamba sola Finisce in ultima posizione Lo squalo gli stacca l'ultimo arto Quindi viene eliminato dal gioco Lo squalo mangia anche automaticamente il più vicino a lui Quindi quando rimangono solo due giocatori Lo squalo si mangia direttamente anche l'ultimo dopo il terzo In questo caso vincerebbe il bianco Molto più difficile a dirsi che a farsi Infatti le regole sono tutte qua State sul pezzo Seguitemi nel prossimo video dove vi farò vedere il gameplay